34 sedute consigliari, 41 leggi approvate, 84 provvedimenti esaminati sono i numeri positivi che più di ogni altro commento dimostrano il lavoro svolto dal Consiglio regionale pugliese nel 2011. Pur essendo fiero però il Presidente Onofrio Entrona ammette che un'ombra ha segnato il 2011 della Regione Puglia, ovvero quella di non aver risolto il problema dei 570 dipendenti regionali retrocessi, ma Entrona non demorda e promette. Stiamo sensibilizzando il Parlamento e soprattutto la delegazione dei parlamentari pugliesi perché nella prima occasione utile possa essere individuato un meccanismo di legge che restituisca serenità ai lavoratori e funzionalità all'interregione. Sul fronte dei costi della politica Entrona ricorda che il Consiglio regionale ha fatto la sua parte nell'ultima seduta di bilancio di previsione abolendo i vitalizi dei consiglieri e garantisce che nei prossimi mesi saranno anche ridotti il numero di consiglieri da 70 a 60 e quello degli assessori da 14 a 12. Nella conferenza dei Presidenti con la quale organizzeremo il lavoro della sessione la prossima settimana, impegneremo i gruppi a individuare la data del Consiglio regionale nella quale andare in seconda lettura per procedere a questa riduzione. Abbiamo proceduto in sede di approvazione del bilancio all'adeguamento del sistema previdenziale dei nostri consiglieri. Si sa che dalla prossima consigliatura cesserà l'istituto del vitalizio, quindi abbiamo riportato l'indenità di fine mandato ad una mensilità per ogni anno di consigliatura, così come accade per ogni lavoratore. Abbiamo fatto un percorso molto attento che può dare l'immagine di una regione che non vive al di sopra delle difficoltà dei propri cittadini.